A un mese dall'iniziativa si scaldano i motori delle macchine agricole che saranno protagoniste di Enovitis in campo, l'evento dedicato alla promozione delle tecnologie per la viticoltura organizzato da Unione Italiana Vini e Verona Fiere con il patrocinio di Regione Puglia e Federuna Coma in programma il 17 e 18 giugno prossimi a Corato. Gli ultimi dettagli dell'appuntamento sono stati definiti in un incontro tecnico tra organizzatori ed espositori presso la tenuta Torrevento a Corato, location che ospiterà per la prima volta in Puglia il format itinerante che vedrà lavoro in vigneto, macchine e attrezzature per ogni fase di lavorazione della vite. Oltre 300 filari accoglieranno ai piedi di Castel del Monte quella che si preannuncia un'edizione da record. Ricco e articolato è il programma di eventi collaterali con una nuova sezione dedicata alla olivicoltura ma anche visite guidate, seminari e incontri. Un premio, l'Innovation Challenge riservato alle migliori innovazioni tecnologiche presentate in fiera e il concorso Vota il Trattore completeranno la manifestazione rivolta non solo agli addetti ai lavori. Il Novitissimo in Campo guarda anche al futuro, è una bella occasione di festa per tutto il vigneto italiano e in particolare pugliese. Proprio per questo motivo invitiamo le famiglie anche a portare i propri bambini, i propri cuccioli, quelli che definiamo i viticoltori del futuro perché per loro abbiamo riservato una zona, un'area specifica di intrattenimento. Abbiamo messo a disposizione i nostri filari per far sì che questa tecnologia, questa innovazione possa realmente esprimersi, che possa realmente essere vissuta dagli agricoltori e dai contadini che mi dicono arriveranno da tutta Italia, si aspettano oltre 10.000 persone. È evidente che per questa tecnologia possiamo anche ritrovarla in cantina e chi vorrà potrà visitare la tecnologia viticola, vinicola in cantina e per noi sarà un piacere questo confronto perché il confronto nel mondo agricolo con i colleghi contadini e agricoltori quali noi siamo sarà sempre piacevole ed è una sfida anche questa.